quando si parla di nature morte non si può non soffermarsi sull'arcimboldo ne abbiamo già parlato qui sul canale e nel blog per quanto riguarda il ritratto perché le sue opere fantastiche erano ritratti nature morte del tutto originali ma quest'opera in particolare merita una riflessione ulteriore ben oltre la fantasia cui conta lo spirito di osservazione scientifica dell'artista in un dipinto probabilmente realizzato a vienna città in cui le specie animali rappresentate non erano facili da trovare l'opera conservata al conti storici museum di vienna fa parte dei due cicli di quattro dipinti ciascuno dedicati alle stagioni e agli elementi naturali in particolare la raffigurazione dell'elemento acqua è forse una delle composizioni più complicate tra le teste realizzate da arcimboldo tra gli elementi che la compongono presi ovviamente dal mondo marino ci sono ben più di 60 specie tra pesci rettili mammiferi tutti accuratamente dipinti sul volto ad esempio vediamo una razza che compone la guancia il pesce luna che serve a realizzare l'occhio lo squalo che dà vita alla bocca la murena per il naso e la molva occhiona per suggerire la barba poi ci sono anche una mini focca un mini trecheco un ippocampo alcuni octopus di varie dimensioni tutto realizzato con una precisione scientifica notevole che ci fa pensare agli studi di ulisse aldrovandi il naturalista botanico ed entomologo stava gettando a bologna in quegli stessi anni le basi delle scienze naturali moderne non aggiungo altro e vi lascio all'osservazione accurata dell'opera che qui è fondamentale per capire tutti i particolari se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando e anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte è e quindi ci sono tutti i campi di arte è un'ottima e quindi ci sono un'ottima